Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi in questo video vi mostro come realizzare il frosting o crema al burro senza lattosio per decorare torte e cupcake. In una ciotola capiente ho inserito 50 g di burro dell'attosato, 125 g di zucchero a velo, 15 ml di latte dell'attosato, tutto a freddo, e 10 ml di estratto alla vaniglia. Con le fruste elettriche monto il tutto. Ci vorrà qualche minuto per ottenere una glassa liscia e omogenea. Aggiungo la crema di burro appena ottenuta a 500 g di panna di soia semi montata e continuo a montare con le fruste elettriche fino ad ottenere un trapposto bello spumoso. Il frosting è pronto, va messo a riposare in frigorifero per 30-40 minuti circa, dopodiché può essere utilizzato per farci le torte all'interno o all'esterno, oppure per decorare i cupcake. Nel mio caso ho bisogno che diventi leggermente colorato, io ho bisogno che sia rosa, quindi utilizzo del colorante alimentare in gel, e ne utilizzo davvero una punta, infatti ne adopero uno schizzi cadenti per colorarlo, e poi un rimonto con le fruste elettriche per amalgamare il colore. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto, non dimenticate di lasciare un bel mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Per seguirmi sugli altri canali social trovate i link giù nell'info box. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo! Se avete domande da pormi, commentate il video e sarò felice di rispondervi. Ciao ciao!